ciao a tutti e ben ritrovati oggi andiamo a commentare un video all shane super shopping e di chi della miriam tuttofare ma andiamo con ordine allora il video parte con due manine dalle unghiette ben curate di un colore rosa confetto saluta l'utenza e ci informa che in quest'ordine ci saranno cosine per halloween cosine per il journal bullet così si dice bullet journal una cosa così e robe ottissime iniziamo proprio dalle cose hot e invece no perché partiamo col descrivere una felpa una felpa per halloween che intendiamo indossare proprio in quella particolare giornata ora sembra che halloween quest'anno cada di domenica vabbè chi se ne frega direte è anche giusto quindi andiamo a descrivere la felpa in questione allora si presenta di colore nero con sul davanti raffigurata una grossa zucca di colore arancione con un sorriso inquietante vabbè ma ci sta è per halloween pare sia un modello che lascia anche una spalluccia scoperta ha le maniche lunghe e non ci ricordiamo il prezzo vabbè chi se ne per continuare col discorso haulin come dice qualcuno abbiamo preso un cerchietto con fiori e teschietti del tipo un fiore e un teschietto un teschietto e un fiore anche di questo non sappiamo il prezzo ne appena un minuto e 47 adesso 50 di video siamo già arrivati a quelli che sono gli articoli hot e ci ritroviamo un paio di guantini stile sodomo e gomorra in pizzo nero con in omaggio un paio di manette in peluche rosa ora non lo so forse il caso di mettere qualche restrizione al video vabbè valuteremo passo passo abbiamo inoltre una lanternina di colore nero con una piccola lucetta all'interno e con disegnate sopra sul davanti e sul retro ora sul retro sono insicura ma sul davanti assolutamente sì ci sono tre zucca di misure diverse quindi una più grande una media e un'altra piccolina e ho detto su tre misure diverse volete sapere il prezzo di questa lanternina e invece no perché andiamo subito avanti con la presentazione di due cuscini allora uno raffigurante una grossa zucca e l'altro con un paesaggio halloweeniano appena che brava con il gufo sul ramo i pipistrelli le zucche e la befana la befana vabbè si starà portando avanti quel lavoro e il tema halloween è finito iniziamo con gli oggetti molto tra virgolette particolari allora prima di andare con la lista la carrellata di tutti gli oggetti particolari acquistati dalla nostra miriam tuttofare monetevi di cuffiette se avete bambini a casa grazie e uno potrebbe anche fare una domanda del tipo è perché le cuffiette e io dico è che ne so la miriam che tira fuori e quindi partiamo con la carrellata degli articoli tra virgolette particolari allora iniziamo con due maniche da indossare per fare video dando l'illusione che siete vestiti e poi invece magari state registrando il video totalmente nudi ok poi abbiamo un ulteriore paio di guantini però questa volta di pizzo bianco quelli tipo per i giochi di ruolo insomma ora la nostra miriam prova ad indossarli e c'è già qualche piccolo intoppo con la presentazione perché perché pare siano adatti a chi ha due mani destre allora oddio io vorrei sapere quanti ne hanno venduti di questi quanti la miri dice che ci fate tante cose carine con questi si possono infilare da per tutto oddio c'ho le lacrime allora andiamo avanti col discorso articoli hot allora cosa ha preso in più ha preso un un timbro e a cosa serve sto timbro ovvio per marchiare eventuali partner o parti di essi il timbro riporta la data in pratica e se avete vuoti di memoria del tipo quando è stata l'ultima volta che puntini puntini to c'è il timbro siamo arrivati alla sezione dell'occorrente per il bullet journal si tratta di centrini di forma rettangolare quadrata tonda non mi veniva tonda non lo so cosa ci fa con questi centrini perché io al momento non ho deviazioni sessuali un domani chissà non dico di no perché nella vita mai dire mai magari mi ritrovo anche a comprare questi articoli e poi ne scoprirò l'uso poi abbiamo anche tutta una serie di francobolli già timbrati per eventuali lettere minatorie credo dopo tutto chi è che non ne ha a casa e dopo i francobolli bustine da lettere ovvio e sennò come le spedisci le lettere minatorie ecco poi abbiamo anche una scatolina in latta con tutti i tipi di funghetti eccoci a seguire una bustina con delle cornicette per ringraziosire i bordi di cosa delle lettere minatorie cioè vuoi mettere ricevere un ti ripescheranno dal fiume in un sacco nero con una bella cornicetta e beh la differenza la fa e ci sono inoltre dei quadernetti con pagine beige no bianche di cui abbiamo fatto scorta ora un utente chiede a che servono ea che servono per fare la brutta copia della lettera minatoria ovvio a meno che poi uno non si metta lì e ritaglia tutte le letterine singolarmente da dei quotidiani dai giornali ma credo che si faccia più fatica cioè io non lo so personalmente a me l'ha raccontato luisa ma torniamo a miriam che nel frattempo ha preso altri timbrini timbrini a forma di torta e che pare che comunque qui c'è una nota un po triste sembra che li mandino a casa a scelta loro e non a scelta tua e abbiamo un doppione cioè due timbrini torta e vabbè è andata così la cocchiera e la vita è così e anche dei cartoncini a forma di fiore a forma di orsetto e un mini calendario del tipo tascabile su cui annotare la data dell'invio della missiva e poi tenere una conta se è stata ricevuta o meno nella lunga carrellata degli oggetti particolari acquistati dalla nostra miriam troviamo anche dei post it mezzi strappati sbrodolati accartocciati rigurgitati a prezzi davvero modici mentre per il discorso delicatessa abbiamo un segnalibro in metallo a forma di piuma che ha una catenella e da cui pende una pallina ora credo che sia un vetro un vetro particolare dalle proprietà terapeutiche che ora non sto qui a spiegarvi lo farà lei se avrà tempo e voglia e siamo all'ultimo articolo di questa lunga carrellata di oggetti particolari e che cos'è è un mini righello metallico un mini righello metallico cosa ci farà mai non lo so e così si conclude il video della miri allora in conclusione di questo brevissimo video posso dire che io mi sono divertita tantissimo a vedere il video haul della miriam perché la miriam fa anche dei tagli bizzarri nel suo video e quindi lo rende tutto ancora più divertente ora miriam non mi bloccare non mi bloccare che miglio 800 milioni di fake e ti vengo a vedere lo stesso questo voleva essere un video assolutamente ironico invito tutti ad andare a vedere il video di miriam lasciate perdere queste live buasta queste live di dissing perché veramente hanno stufato andate a vedere i video i canali che vi lasciano un sorriso vi lasciano un'impressione positiva basta con questo dissing bene questo per oggi è tutto io vi auguro come sempre buona continuazione di data l'ora serata e video appuntamento al prossimo contenuto bacio 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 da così grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.